La suite l'avevi vinta tu, giusto? E tu avevi promesso ad Ascanio Pacelli, Rampollo, che se tu avessi vinto la suite avresti portato lui, no? E invece com'è finita? Sì, sì. È finita che abbiamo portato Katia e ci siamo divertiti da... Sì, abbiamo brindato. La mia libertà emotiva è una vita magnifica. Vomita insieme a tavola. Purtroppo chiedo scusa nuovamente per la migliorazione da tutti gli italiani di quella scena disgustosa della quale capisco perché sia venuta. Cioè che lo capisco perché tutti pensano fossi un biaco. In realtà ho bevuto, ma il sorso ha effetto... Sì, mentre ridevo bevevo e per cui ho sputtato tutto dai denti, dal naso. È stata una situazione mostruosamente imbarazzante. Vi chiedo scusa e... No, ma figurati. So che è divertente. So che ha avuto un effetto... Cioè che è stato molto... Cioè è stato fin troppo... Cioè è una cosa... È una cosa mostruosa. Non so cosa dire. Mi vergogno. Allora, io direi che è una cosa. Fa divertire. Fa divertire anche me quel video. Tu devi fare solo una cosa adesso. Non devi chiedere scusa perché io ho un sogno. Rifare questa scena con te e con Awed. Quindi io... Vai Awed. Mi metterei una tappatoio. Ci siamo. Io tra l'altro ho anche una piccola... Una piccola... Io non ho trovato un bicchiere normale o una tazzina di caffè. Mamma, fai un video a casa. Quando mi ricapito. Io a Paddy, tra l'altro, sono mesi che manco da casa perché sono andato alla ricerca di... Una cosa che ha da presentarsi a te. Ma cos'è quella roba che te ne senti? Sono i miei capelli di una volta. Sono i miei capelli. Li ho vinti all'asta. Sei orribile, Stimo. Potevi essere anche Katia, eh. Potevi avere la frangetta ai tempi, quindi potrei essere bivalente. Io la frangetta di Katia. Eccola qua. La frangetta ce l'hai di Katia, allora. La frangetta ce l'ha. Patrick, ho un bicchiere anche per te, concettualmente, però tu hai la tazza. Ovviamente, Patrick, la frase... Dimmi tu? Posso usare la tua. La frase è la tua. Allora, la frase la dico io, però tu, Awed, mi raccomando, mima il gesto, poi anche il gesto della mano sulla bocca. Chi lo fa? Lo fai tu, stavolta? Visto che sei travestito da me. Io rido per una pacca. Ecco, c'era la Jalapas che diceva, stanno ridendo come due deficienti. Era carino, pezzi di roba mai vista. E a un certo punto ci guardiamo e dico, brindiamo alla mia libertà emotiva e ad una vita magnifica. In quel momento scatta il brindisi, esattamente, scatta così, quindi lei le sputa lo champagne addosso, Awed in quel momento sbocca, non riesce a sboccare veramente, è qualche pezzettino. E a quel punto Katia, Katia Enni, si alza e corre in bagno perché si è fatta la pipì addosso. No, 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 cade dopo. Tu corri in bagno e lui in quel momento si trattiene la bocca. Si sta pisciando addosso. Esatto, Awed invece si tappa la bocca e ti si gonfiano le guance. Dai! Ti si gonfiano le guance così e ti alzi anche tu per andare in bagno, ma non arrivi in tempo in bagno, vomiti in giro per la casa. No, ma Katia, nel frattempo... Katia, nel frattempo che sei pisciata addosso, correndo in bagno... Ecco, è chiusa in bagno, finisce di fare pipì, esce e vede per terra il gamberetto riso che avevo appena mangiato. E dice, no, ma ci sono i gamberetti per terra, pezzi di roba... I gamberetti per terra... Sì, erano, non li avevo ancora digeriti. Non li avevi ancora digeriti, i gamberetti erano qua e sono ritornati su, ti si è riproposto il gamberetto. Per terra, sì, 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 una cosa disgustosa, guarda. Che bello questo momento bellissimo di telecronaca su scena iconica della tua...